Oltre 55 milioni di interventi di manutenzione ordinaria in 5 anni. Risorse che hanno permesso il contenimento della vegetazione sui circa 6.000 km di tratti e il taglio selettivo delle piante malate e pericolanti su altri 3.000 km. A questo poi si aggiungono 4 milioni di euro di interventi puntuali per risolvere criticità non programmabili e quasi 13 milioni di interventi finanziati. A tirare le somme dell'ultimo quinquennio è Serena Stefani, attuale presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno nell'ultima riunione dell'Assemblea. Sicuramente quello che ci ha visto impegnati tantissimo in questi 5 anni e che spero di concludere con l'inaugurazione del cantiere è quello del distretto 23. La realizzazione del distretto Irriguo 23 a Fogliano della Chiana sarà un momento epocale per questo Consorzio perché finalmente torniamo nei territori a costruire nuovi distretti irrigui dopo 40 anni che non si andava avanti in questo senso e in un momento in cui i cambiamenti climatici mettono a dura prova l'agricoltura, anche a retina. Tanti anche gli interventi straordinari che hanno permesso ai corsi d'acqua di resistere meglio alle pericolose insidie del cambiamento climatico. Un grandissimo lavoro è stato fatto su tutta l'asta dell'Arno. Forse la parte più emblematica per ricordarne alcune sono le difese di sponda fatte nel comune di San Giovanni Valdarno ma lo prendo come emblema in realtà di difese spondali lungo l'Arno ne sono state fatte veramente tante. E per quanto riguarda l'alluvione 2019 che colpì i territori aretini proprio adesso stiamo portando avanti i cantieri in diverse aree del comune aretino. Spazio infine alla partecipazione. In questi anni abbiamo portato avanti diversi progetti anche di educazione ambientale volti ai cittadini e volti ai giovani. Amico CB2 è sicuramente uno dei progetti che più ci sta a cuore perché ci permette di andare direttamente nelle scuole parlare direttamente con gli insegnanti ma con i ragazzi e con loro fare anche attività pratiche. L'attività poi di educazione ambientale ovviamente l'abbiamo fatta anche a fianco di associazioni ambientaliste che nel tempo hanno collaborato con noi. Si chiude con questo bilancio il primo decennio di vita del consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Dal primo al 5 ottobre si vota infatti per il rinnovo della sua governance. Sono chiamati ad esprimere parere 400.000 cittadini titolari di immobili.